L'assessore alla cultura Alberto Parigi presenta un'altra interessante esposizione allestita al PAF, Palazzo Artifumetto Friuli, struttura culturale inserita nello storico parco cittadino Galvani. La mostra di Guarnido è un'altra testimonianza del respiro e della vocazione internazionale di questa struttura, il PAF. C'è poi un aspetto locale importante perché il Palazzo del Fumetto è dentro un luogo storico per i pordenonesi, cioè il Parco Galvani. Il Parco Galvani che è stato riqualificato, la recinzione è stata tolta con un bellissimo effetto, il parco che entra nella città e viceversa. Questo secondo me può anche spingere i visitatori a venire a visitare questa struttura ancora di più, una struttura degna delle grandi città come Berlino o Milano. Ce l'abbiamo qui a Pordenone, penso che sia un vanto. Il direttore del PAF, Giulio De Vita, illustra i contenuti della mostra. Inauguriamo questa settimana la mostra su Guangio Guarnido, i colori del noir, su 130 opere originali provenienti da Parigi, delle opere spettacolari fatte a colori, ad acquarello, su un personaggio conosciuto in tutto il mondo, Black Sad. Black Sad è un gatto che però fa il detective e ha delle avventure abbastanza drammatiche, quindi un modo di raccontare fumetti unico proprio di questa disciplina che permette appunto di valorizzare le capacità di un grande autore. È una mostra che sarà in piedi per tre mesi a Pordenone con un allestimento davvero sontuoso. Abbiamo voluto mettere in campo tutte le nostre competenze e le nostre forze per dare al nostro territorio un altro grande evento culturale per la nostra città e per la nostra regione. Nelle parole dell'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, la soddisfazione per la qualità dell'offerta culturale del PAF. Il comune di Pordenone e la regione Friuli Venezia Giulia hanno investito sul PAF contando che la resa ci sarebbe stata. Ecco, credo che anche questa mostra sia la dimostrazione che ci sono investimenti buoni che poi producono ricadute positive sul territorio. La qualità delle proposte del PAF è sempre talmente alta da metterci sul piano della scena nazionale.